E con Francesca Rodda Gentile entriamo nello specifico del programma di venerdì a Cervo, sebbene molto in sintesi Francesca. Certo, venerdì appunto appuntamento per tutti alle 21.30 sulla piazza dei Corallini con questi 5 magnifici romanzi che sono entrati in finale al premio Strega, La ragazza con la Leica di Elena Janczek, Resto qui di Marco Balzano, La Corsara, ritratto di Natalia Gisburg di Sandra Petrignani, questa sera e già domani di Lia Levi che tra l'altro ha già vinto il premio Strega Giovani a Montecitorio qualche giorno fa, e Il gioco di Carlo D'Amicis che è stato il libro in qualche modo censurato per la giuria dei ragazzi, appunto per una tematica molto forte e legata al sesso, che però appunto sembra molto molto bello, molto interessante. Sono libri che in qualche modo sono specchio dei nostri tempi, letteratura contemporanea, la più alta letteratura contemporanea di oggi, e per questo credo che sia davvero molto interessante poter ascoltare dal vivo la voce di questi grandi autori in finale al premio Strega. Sulla piazza dei Corallini, il 22, ci saranno sei scuole rappresentanti del premio Strega Giovani, cinque scuole Liguri, liceo Aprosio di Ventimiglia per la prima volta quest'anno, liceo Cassini di Sanremo, l'istituto Icardi di Sanremo, il liceo VSO di Imperia, l'istituto Ruffini di Imperia. Ci sarà anche una delegazione milanese di studenti, infatti sarà ospita Cervo anche l'istituto Varalli di Milano, e per questo siamo molto felici perché appunto in qualche modo Cervo si apre anche oltre i confini regionali. Sarà a condurre la serata per la prima volta quest'anno un conduttore radiofonico, Maurilio Giordana, che sicuramente darà molto brio alla serata e coinvolgerà con grande passione i studenti. E poi ci saranno degli intermezzi anche musicali, come al solito appunto Musica e Parole, con Nina e Simone, che renderanno ancora la serata ancora più magica sicuramente. Poi vorrei anche ricordare che il 9 luglio sarà la prima uscita pubblica del vincitore del Prima Strega 2018, che avrà luogo sempre a Cervo sulla piazza dei Corallini, e quest'anno a condurre l'intervista con lo scrittore vincitore sarà un comico d'eccezione, anche lui è un ligure, Dario Vergassola, perciò sicuramente le risate non mancheranno, vi aspettiamo con grande gioia, l'ingresso è come tutti gli anni 10 euro, e poi come ogni anno ci sarà alla fine la degustazione dei prodotti e dei cioccolatini strega, che è anche un momento molto apprezzato da tutti. Quest'anno anche grande novità, che siamo molto felici, che Imperia TV possa riprendere integralmente le due serate, perciò si potranno rivivere tutti insieme in televisione, potremo vederle appunto in tutta la Liguria, e Radio Onda Ligure, che sta facendo degli speciali molto interessanti con gli scrittori del Prima Strega e i vari protagonisti.